In questo ospedale abbiamo realizzato un modello di assistenza che a mio avviso rappresenta una forte innovazione. Abbiamo creato un gruppo di pediatri generalisti che si prendono in carico globalmente tutti i pazienti ricoverati, ma hanno il supporto nella gestione dei singoli casi degli specialisti, quindi ogni bambino ha la garanzia che per la sua malattia verrà coinvolto il migliore specialista che questo ospedale ha a disposizione, ma nel contesto sarà visto globalmente, non c'è un fegato malato, ma c'è un bambino che ha un fegato malato, non c'è un cuore malato, ma c'è un bambino che ha un cuore malato e molto spesso cuore, fegato o anche altri organi possono essere malati, quindi la visione globale è quello che dà una continuità maggiore, che tiene in considerazione l'aspetto che un bambino è un essere che cresce e che quindi ha bisogno di una visione globale e in questo senso noi abbiamo potuto realizzare una modalità assistenziale che tiene in considerazione tutti questi aspetti. Ogni bambino che entra avrà il migliore specialista per questa sua malattia, ma sarà visto globalmente e la famiglia ha la garanzia che tutto quello che viene vissuto e che viene deciso è il risultato di una discussione, in questo tavolo tutti i giorni noi ci fermiamo a discutere, a analizzare per ogni bambino ricoverato tutte le problematiche, tutti i pediatri generalisti e insieme gli specialisti che sono necessari per quel determinato bambino e da lì nasce l'orientamento diagnostico, la cura e tutto quello che comporta anche il follow up successivo.